Cari amici di Fano TV, buonasera e bentrovati. In questo approfondimento in studio ci occuperemo di orientamento scolastico. A causa delle restrizioni dettate dal Covid, quest'anno non è stato possibile organizzare la terza edizione di Quo Vadis, il salone di orientamento scolastico organizzato sempre dal Comune di Fano. È per questo che abbiamo deciso di ospitare i dirigenti dei vari istituti scolastici in questo spazio, orientamente. Naturalmente grazie al Comune di Fano e allora do il benvenuto all'assessore alle nuove generazioni, Barbara Brunori. Buonasera. Buonasera a tutti, ringrazio i dirigenti qui presenti per essere qui e a disposizione per un tema che è un approfondimento per quanto riguarda l'orientamento dei nostri ragazzi molto importante. Quest'anno come amministrazione abbiamo deciso di fare una scelta forte e quindi di sostenere quello che è un percorso formativo che non aveva la possibilità, come negli scorsi anni, di dare vita a un evento che era il Quo Vadis. Il Quo Vadis sarebbe stata la terza edizione ed era uno di quegli approfondimenti dal vivo che si facevano sulle strutture, permettendo quindi ai ragazzi di capire le loro scelte e di avere tutti gli elementi a disposizione. In assenza di tutto questo abbiamo pensato di creare questo momento dedicato che è un approfondimento dove appunto i dirigenti qui presenti avranno la possibilità di informare, di portare a conoscenza di tutti gli aneddoti e di tutte le proposte formative che la nostra città mette a disposizione. È chiaro che per quanto mi riguarda ho proprio la volontà di valorizzare le nostre eccellenze perché all'interno di FA non ne abbiamo tante. Faccio un appello ai ragazzi e l'appello che mi sento di fare è proprio quello di approfondire le scelte, di essere preparati, di non rincorrere il compagno di banco ma veramente di fare una scelta per il proprio futuro perché solo conoscendo saremo più in grado di fare la cosa giusta. Siamo quasi vicini alla scelta perché entro fine gennaio i nostri ragazzi appunto dovranno scegliere con le proprie famiglie per cui io vi auguro davvero la scelta più giusta e vi saluto. Grazie allora Barbara Brunori. Cominciamo subito il nostro escursus tra i vari istituti scolastici. Iniziamo subito dall'istituto Nolfi Apolloni. Diamo il benvenuto al dirigente Samuele Giombi. Buonasera. Buonasera, grazie. Allora iniziamo subito a conoscere questo istituto presentandolo Nolfi Apolloni. Sì il doppio nome deriva dal fatto che dal 2017 si sono accorpati questi due licei cittadini, due istituti cittadini, il liceo Nolfi e il liceo Apolloni. Quindi dal 2017 è nato il liceo Nolfi Apolloni. Si comprende i licei a vocazione umanistica. Poi esamineremo brevemente. La scommessa su cui poggia questa impostazione è che le humanities cosiddette possano costituire in qualche modo un riferimento culturale capace oggi, oggi come ieri, di orientare le scelte delle persone verso i percorsi universitari, i lavorativi, dando, garantendo, offrendo quella competenza culturale, formativa, complessiva che metta in grado una persona, uno studente, poi di orientarsi nella vita e di proseguire i suoi percorsi universitari o meno. Ecco, non per nulla abbiamo voluto, come dire, mettere a simbolo del nostro istituto un'immagine, un'icona che è quella di un ramoscello che si innalza da un insieme di libri, come a dire che la bellezza fiorisce dalla conoscenza. Assolutamente sì. A proposito di conoscenza, sono cinque gli indirizzi del suo istituto. Sì, appunto, dicevamo, il polo umanistico che raggruppa cinque indirizzi. Cinque indirizzi accomunati da una comune ambizione di dare una formazione culturale a 360 gradi che non dimentichi, però, che non trascuri anche competenze tecniche specifiche, le competenze nel tradurre da lingue straniere, antiche o moderne, l'abilità artistica, la capacità di lettura e interpretazione dei fenomeni sociali, culturali o anche psicologici attuali. Dunque, come si declina tutto ciò nei vari indirizzi che compongono il nostro istituto? Cominciamo dall'indirizzo del liceo Apolloni, che nasce come liceo artistico, diciamo, dalla trasformazione che la nuova legge ha istituito tempo fa, trasformando in licei artistici i precedenti istituti artistici, istituti d'arte. Fano ha una tradizione antichissima di istituto d'arte, gloriosa, che ha, diciamo, formato professionisti nel campo dell'arte, maestri d'arte, eccelsi. Ecco, oggi è diventato un liceo, quindi ha assunto una dimensione più formativa complessiva. Il pensare, la creatività, la progettualità, che li contraddistinguono in cinque, diciamo, indirizzi interni, che sono quelli che poi gli studenti sceglieranno dal terzo anno, dopo un bienio orientativo comune. Sono gli indirizzi delle arti figurative, disegno in particolare, il dirizzo del design dell'arredamento, l'indirizzo di architettura e ambiente, l'indirizzo di design dei metalli e dell'eurofficeria e, infine, la scenografia, che è un nuovo indirizzo più di recente. Questo è, in pillole, per così dire, molto brevemente, il liceo artistico. Poi si declina in un suo monte orario che è illustrato nei nostri depredanti informativi in modo più dettagliato. Sicuramente anche sul vostro sito si potrà vedere tutto quanto. C'è una pagina dedicata, ovviamente, all'orientamento, quindi ci sono i piani orari, le varie materie. Non è certo adesso qui il caso che io mi soffermi in modo troppo analitico su ciascuno, insomma. Poi, continuando l'esame dei vari indirizzi, l'indirizzo classico del liceo classico, che piace dire il primo liceo che nasce in Italia, nella neonata Italia unitaria, fino a 800, è il primo liceo che nasce. Poi subisce trasformazioni ed aveva allora e da tuttora oggi l'ambizione, poi starà a noi tradurla in realtà, ma meno l'ambizione di formare una coscienza critica capace di interpretare la realtà, leggere i testi, acquisire un metodo, un'abitudine allo studio, è un metodo di indagine intellettuale che mette in grado uno studente oggi di affrontare con successo qualunque studio universitario, da quelli ancora umanistici a quelli scientifici o tecnici. Poi, oltretutto, noi abbiamo aggiunto da qualche anno in questo liceo classico anche un indirizzo interno di curvatura biomedica che è particolarmente, diciamo, versato per coloro che poi intendono proseguire i studi universitari in ambito sanitario o medico. Poi ancora, andando avanti nel percorso della descrizione dei vari indirizzi, il liceo delle scienze umane, che è l'erede dell'istituto magistrale, che è diventato un liceo con la riforma del 2010 e che quindi ha conservato quella caratteristica di essere particolarmente dedicato, diciamo, all'approfondimento di alcune scienze cosiddette umane come la sociologia, la psicologia, la pedagogia, l'antropologia e quindi proietta sul mondo dell'insegnamento primario, ma non solo, per il futuro dei ragazzi. Tra l'altro va detto anche che questo liceo delle scienze umane, ereditando la precedente istituto magistrale, si è trasformato acquisendo anche al suo interno una declinazione particolare che è quello dell'indirizzo economico-sociale, che è un indirizzo interno, dove ciò che ho detto prima del liceo delle scienze umane si coniuga anche con approfondimenti di tipo internazionale. Infatti gli studenti studiano due lingue straniere e affrontano anche il mondo del diritto dell'economia, che sappiamo oggi aver acquisito una rilevanza crescente nella società contemporanea. E poi per concludere questa carrellata, il liceo linguistico naturalmente è caratterizzato dallo studio di più lingue straniere, noi abbiamo le tre lingue straniere, l'inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo, le quattro lingue straniere, gli studenti poi ne scelgono tre di queste quattro e quindi la caratteristica è quella di dare competenze di tipo comunicativo, affrontare sistemi linguistici, che vuol dire anche sistemi culturali dei vari paesi, confrontarsi con altre culture. È inutile che io spenda parole a dire quanto nella società di oggi questa dimensione di apertura interculturale e di competenze linguistiche sia importante. Sono altresì interessanti poi le attività extracurricolari? Sì, poi tutti questi indirizzi che ho molto sinteticamente riassunto, ripeto poi i quadri orari, quante ore, ogni materia, eccetera, rimando al sito, rimando ai depianti illustrativi, rimando alle giornate di cosiddetto open day, scuola aperta che avremo per maggiori dettagli. Comunque ci sono poi una serie di progetti, come dire, che trasversalmente attraversano i vari indirizzi di studio, progetti di carattere appunto trasversale, comuni. Ne cito soltanto alcuni, spero di non dimenticarne troppi. Le certificazioni linguistiche, cioè noi diamo la possibilità agli studenti che lo desiderano di acquisire certificazioni linguistiche spendibili o sul mondo del lavoro o sul mondo universitario, in lingua inglese, in lingua tedesca, in lingua spagnola o in lingua francese. Certificazioni di competenze informatiche, le CDL, eccetera. Un corso di lingua cinese che abbiamo introdotto al liceo linguistico per aprirsi anche verso questo nuovo orizzonte che è non troppo lontano da noi, sempre meno lontano da noi. La curvatura biomedica, cioè questo indirizzo interno in collaborazione con l'ordine dei medici che facciamo all'interno del liceo classico, dal terzo anno del liceo classico. Ovviamente poi altre esperienze che in qualche modo tutte le scuole da tempo stanno facendo, possibilità di fare attività teatrali, di fare attività legate al mondo del film ed altre cose che naturalmente qualche misura tutte le scuole oggi stanno in qualche modo perseguendo. Bene, allora rimandiamo tutti quanti all'appuntamento con gli Open Day? Sì, ecco, queste occasioni di incontro con gli studenti e le loro famiglie, purtroppo la situazione pandemica che abbiamo non ci consente al momento almeno di ospitare studenti e familiari interessati dentro gli istituti, quindi dobbiamo ricorrere a soluzioni telematiche necessariamente, quindi avremo queste occasioni di visite virtuali o di dialoghi a distanza attraverso i collegamenti informatici telematici in queste date, sabato 12 dicembre nel pomeriggio e poi sabato 16 gennaio nel pomeriggio. Il liceo artistico per la sua particolarità, specificità, aggiunge anche un'altra data che è quella di venerdì 8 gennaio. Come collegarsi in quei orari, con quali modalità, è inutile che lo dica adesso, rimando al sito o alle informazioni che abbiamo passato a tutte le scuole medie, dove si potrà vedere, leggere sia l'orario specifico, sia le modalità per collegarsi in videocollegamento in queste date. Per il momento sono date appunto di occasioni telematiche, ci auguriamo se la pandemia potrà deflettere, se ci fosse possibile aprire gli spazi fisici in presenza, di poterlo fare in date successive. Per ora le date sono sabato 12 dicembre e sabato 16 gennaio, anche 8 gennaio solo per il liceo artistico. Grazie allora a Samuele Giombi per essere stato con noi. Grazie a voi. Diamo il benvenuto anche a De Leonora Ogello, dirigente dell'Istituto Polo 3 di Fano. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, la domanda fatidica in questo appuntamento è qual è l'istituto giusto per me? È una domanda fatidica che potrebbe rappresentare, viene vissuta da molti come un ternallotto, come pescare il grattino giusto del grattevinci sperando che sia capitato a te quello giusto. Per evitare che sia così allora bisogna fare un percorso diverso, cioè non scegliere a casaccio ma puntare su alcune cose. Quali sono le cose sulle quali dobbiamo puntare? Partire da noi stessi e qui il ruolo degli adulti è determinante, è il ruolo dei genitori, è il ruolo nostro con il contributo che possiamo dare. È importante che i ragazzi partano da se stessi per conoscere quali siano le proprie propensioni, le proprie passioni, perché la passione muove tutto nella vita. Quindi se io non faccio qualcosa che mi appassiona veramente, finirò per farla in maniera mediocre e questo potrebbe essere fonte di disagio. Quindi questo in realtà è il percorso più importante che in questo momento deve essere vissuto. È il percorso sul quale stanno lavorando gli istituti comprensivi. Non è un caso che questo speciale si chiami orientamente perché è un progetto finanziato dalla regione Marche, è giusto dirlo, al quale partecipano tutte le scuole superiori, gli istituti comprensivi non solo di Fano ma anche del territorio circostante e che ha proprio come finalità quello di orientare e riorientare. Quindi orientare i ragazzi delle seconde e delle terze medie per una scelta consapevole che parta dalla conoscenza di sé e quindi con incontri con formatori, con orientatori e riorientare nelle scuole del secondo grado e per eventuali scelte sbagliate che sono sempre possibili e non devono mai essere vissute come un fallimento. Quindi questo è assolutamente la cosa dalla quale partire. Una consapevole conoscenza di sé è uno studio delle proprie passioni per individuare nel panorama scolastico quale sia la scelta più opportuna. E poi una netta differenza tra gli istituti tecnici e naturalmente quelli professionali. Sì, in realtà i tecnici e i professionali un po' si somigliano tra di loro. Lo stacco notevole è tra l'istruzione liceale e l'istruzione tecnica e professionale perché l'istruzione liceale, come diranno meglio di me i miei colleghi, è un'istruzione che forma prevalentemente al mondo universitario. Senza per carità abbandonare l'aspetto tecnico, però l'obiettivo ovviamente di chi si iscrive al liceo è quello di proseguire gli studi universitari, inevitabilmente e necessariamente. Invece il tecnico e professionale cambiano un po' queste proporzioni perché ovviamente sono sempre delle scuole e quindi come tali puntano alla formazione dell'individuo, alla crescita personale, ad un percorso che dà quel valore aggiunto al ragazzino che arriva a scuola e poi esce pronto ad una scelta che può essere votata al mondo del lavoro o al mondo dell'università. Ovviamente le proporzioni sono diverse, quindi l'istituto tecnico prevalentemente, l'istituto professionale formano per il mondo del lavoro senza per questo penalizzare ovviamente la formazione universitaria che però è innegabile e diciamo incline prevalentemente all'indirizzo di studio. Cioè mentre da un liceo si ha un ventaglio molto ampio, un aspetto molto ampio di scelta, normalmente se esci da un tecnico economico è ovvio che tecnicamente ci si può iscrivere ad ogni percorso universitario ma ragionevolmente, razionalmente, io penso che così è di fatto, le scelte poi sono orientate prevalentemente per università con taglio economico aziendale giuridico, di marketing linguistico. Ecco, certo abbiamo anche ragionieri fisici, uno di questi è una nostra docente, abbiamo ragionieri medici però sono veramente una minima parte. All'interno tra il tecnico e il professionale questa percentuale è ancora a favore del mondo del lavoro per quanto riguarda gli indirizzi professionali perché l'area comune dell'indirizzo comune, quindi della formazione della persona con le materie appunto chiamate anche dalle normative dell'area comune, cioè italiano, matematica, inglese, sono sempre nello stesso numero di ore per tutti gli indirizzi, quindi la formazione della persona è una cosa alla quale tutti gli indirizzi di studio tendono. Poi l'indirizzo professionale ovviamente con una vocazione più orientata al lavoro e quindi con un numero più importante in termini numerico di ore per le discipline tecnico-pratiche chiaramente forma maggiormente al mondo del lavoro o quantomeno prevalentemente, senza mai bloccare comunque la possibilità della scelta universitaria. È interessante anche fare una specifica più dettagliata dei vari indirizzi del suo istituto. Sì, allora io direi, distinguiamo le due cose, vi parlerò un attimo degli indirizzi tecnici e degli indirizzi professionali, però siccome questo mio essere qui ha, come posso dire, una funzione di tutoraggio nei vostri confronti, mi piacerebbe essere chiara e darvi delle informazioni indipendentemente dall'offerta formativa del mio istituto. Quindi direi di cominciare con fare una distinzione netta. Gli istituti tecnici si dividono in due grandi famiglie. Sono gli istituti tecnici tecnologici e gli istituti tecnici economici. Gli due indirizzi sono questi, sono due grandi famiglie, all'interno delle quali poi ci sono una infinità di indirizzi, parecchi, mi pare 11 per l'economico e non so quanti per il tecnologico. All'interno del nostro territorio, inteso proprio come territorio provinciale, sono rappresentati diversi di questi indirizzi, tra Urbino, Pesaro, Fano, ce ne sono diversi sia del tecnico economico che del tecnico tecnologico. Io nella fattispecie vi parlerò di quelli che sono nella mia scuola. Tra gli indirizzi tecnici economici, nel Polo 3, abbiamo attivi due indirizzi, l'indirizzo economico, AFM, amministrazione finanza e marketing, e l'indirizzo turistico. La caratteristica dei tecnici economici, ma dei tecnici in generale, oserei dire, che hanno un biennio comune, nei tecnici economici proprio comune, nel senso che i primi due anni sono uguali per tutti, infatti noi all'atto dell'iscrizione non facciamo una differenza di scelta iniziale, cioè la scelta non inizia in prima, in prima si sceglie soltanto di fare il tecnico economico. La scelta tra i vari indirizzi, che sono quello a vocazione turistica, che si occupa prevalentemente della formazione della cultura legata al territorio, declinato in vari tipi di percorsi, da quello della conoscenza artistica a quella della conoscenza enogastronomica, caratterizzato dallo studio di tre lingue straniere, cioè le lingue che si possono scegliere sono quattro, sono il francese, lo spagnolo, il tedesco e l'inglese che è obbligatorio per tutti, però sono tre quelle che studiano i ragazzi, due iniziano fin dal primo anno e invece la terza si aggiunge al terzo anno. E quindi questo è l'indirizzo turistico, sempre economico. Poi c'è l'indirizzo amministrazione, finanze e marketing, che è dedicato alla conoscenza dell'azienda affinché si possano acquisire quelle competenze necessarie per la gestione delle varie fasi aziendali, da quella della produzione a quella della commercializzazione in Italia e all'estero, caratterizzato anche qui dallo studio di due lingue straniere fino al quinto anno, oltre che ovviamente tutte le discipline economiche e aziendali. Invece l'altro indirizzo, che parte sempre dal terzo anno, è l'indirizzo sistemi informativi aziendali, che aggiunge come plus valore all'amministrazione finanze e marketing la conoscenza importante delle tecnologie informatiche legate all'impresa, ma non solo come fruitori, come utilizzatori delle TIC, dell'office automation, quindi di tutte quelle software che sono necessarie per gestire un ufficio, ma proprio come produttore di software. Prima della riforma questo indirizzo si chiamava indirizzo ragionieri per programmatori, quindi l'informatica ha qui, che è presente anche negli altri indirizzi, qui invece ha proprio, in termini di ore, un ruolo abbastanza importante. La cosa, la caratteristica è che questa scelta non si fa in prima, ma si fa in terza, quindi i ragazzi dopo aver conosciuto un po' tutte le discipline, hanno due anni in più di tempo per individuare ancora meglio la vocazione che contraddistingue questi tre indirizzi. L'indirizzo tecnico-tecnologico invece, che fa parte dell'altra grande famiglia, nella mia scuola è rappresentato da due indirizzi, l'indirizzo tecnico-grafico e l'indirizzo trasporti e logistica. L'indirizzo tecnico-grafico è un indirizzo ovviamente legato alla comunicazione, dove le discipline che si studiano sono prevalentemente quelle legate, sia dal punto di vista laboratoriale che dal punto di vista teorico, e sono quelle legate alla produzione, alla post-produzione, al montaggio di filmati. Ecco, i miei alunni starebbero bene forse in un studio televisivo come questo. Per le discipline ovviamente, per tutto quello che riguarda le informazioni dettagliate, si può consultare il sito e si può partecipare agli open day, dove ci sono gli insegnanti specifici di ogni disciplina che sapranno dare informazioni molto più puntuali rispetto a quelle che riesco a dare io. E poi abbiamo il trasporto e logistica. Il tecnologico legato all'indirizzo trasporto e logistica si preoccupa invece di tutta una serie di attività formative che riguardano lo stoccaggio delle merci, il trasporto di persone, con i vari mezzi di trasporto, da mezzi di trasporto di terra a mezzi di trasporto di mare, attraverso poi quello aereo o navale. Invece anche qui all'interno, è complicatissimo da dire, ci vorrebbe proprio un diagramma di flusso, all'interno di ogni indirizzo del settore tecnologico ci sono poi delle curvature. La curvatura che è attiva nel nostro istituto è conduzione del mezzo, quindi i ragazzi che sono appassionati di meccanica, di logistica, di conoscenza di tutto quello che riguarda il mondo dei trasporti, potrebbero fare una scelta giusta se si orientassero in questa direzione, quantomeno, ecco, avvicinatevi a conoscere tutto, perché poi è proprio dalla conoscenza che deriva quella capacità di scegliere in maniera più consapevole, quindi bisogna sempre conoscere tutto, tutti gli indirizzi, tutte le possibilità che oggi vi vengono proposte dal territorio nel quale vivete. Poi abbiamo gli indirizzi professionali. Gli indirizzi professionali attivi, anche qui la famiglia degli indirizzi professionali si divide anche qui in due grandi famiglie, il professionale per l'industria e l'artigianato e il professionale del settore dei servizi, quindi sono anche qui due famiglie proprio nettamente distinte. Riguardo al professionale dell'industria e l'artigianato, nella nostra città è attivo da sempre ed è stato un indirizzo storico che tra l'altro in questa ultima tornata da eduscopio è stato indicato come uno dei migliori indirizzi istituti del territorio, si preoccupa della formazione, quindi l'indirizzo attivo è manutenzione e assistenza tecnica, quindi il ragazzo che avesse questa vocazione, che gli piace aggiustare, smanettare, indagare, diagnosticare per poi risolvere problemi, potrebbe trovare in questo tipo di percorso scolastico l'indirizzo più adatto alla propria personalità. Ovviamente l'obiettivo, cioè la cosa sulla quale si lavora di più è quella di preparare i ragazzi al mondo del lavoro, sono numerosissime le ore di laboratorio, veramente numerose, e le esperienze che i ragazzi fanno con le aziende, che spesso, proprio in questo settore, devo dirlo veramente a gran voce, costituiscono realmente un ponte tra la scuola e il mondo del lavoro. Mediamente i ragazzi che si diplomano, perché il nostro ovviamente è un diploma di Stato, quindi dura cinque anni, i ragazzi sono diplomati come tutti gli altri e possono comunque proseguire gli studi universitari, qualcuno lo fa, generalmente proseguendo su facoltà di tipo tecnico, chiaramente tipo ingegneria, meccanica, trasporti, più o meno le scelte sono queste. Altrimenti il mondo del lavoro è lì che aspetta, perché la domanda in questo momento supera l'offerta e quindi i tempi di attesa e quindi di disoccupazione sono praticamente pari a zero, sono bassissimi. L'altro indirizzo professionale invece è orientato, appartiene all'altra famiglia, è l'indirizzo professionale servizi commerciali. Con l'ultima riforma noi abbiamo voluto dare a questo indirizzo commerciale un taglio più attuale e quindi è un indirizzo servizi commerciali che si orienta quindi alla gestione delle aziende, ovviamente con una declinazione molto pratica e molto ricca di laboratori. Quello che abbiamo cercato di fare perché la riforma ce ne dava la possibilità, abbiamo introdotto tutta una serie di discipline che danno una curvatura orientata al social media marketing. Quindi alla fine dei cinque anni e soprattutto a partire dal terzo anno dove i ragazzi già sono più grandi e hanno maturato delle scelte, dei percorsi più consapevoli, si comincia a lavorare per dare ai ragazzi quelle competenze che oggi servono tantissimo nel mondo commerciale di esperti dei social per la promozione dell'aziendale. Perfetto. Ricordiamo allora anche gli Open Day in questo caso? Sì, gli Open Day, uno sarà sabato prossimo, ovviamente a causa della situazione pandemica i nostri Open Day sono virtuali e sono in genere costituiti con una diretta streaming dove vengono presentati come abbiamo fatto noi ma con più puntualità perché parlano gli insegnanti che sono la vera anima della scuola. e vengono presentati i vari indirizzi e poi in realtà ognuno, ci sono delle stanze aperte, una per ogni indirizzo e genitori e ragazzi possono accedere alle varie stanze per fare tutte le domande che desiderano fare. Poi ci sono dei percorsi virtuali, per esempio per la grafica, la diretta è fatta dal loro studio grafico, quindi si vede realmente, cerchiamo di far vedere pur in questa limitatezza, ma io non ho fatto assolutamente riferimento a tutto questo perché è ragione in positivo e penso che tutto questo passerà e ritorneremo a essere le scuole di sempre perché è chiaramente una cosa che stiamo soffrendo tutti in maniera importante. Grazie allora De Leonore Augello. Grazie. Diamo il benvenuto anche alla dirigente del liceo scientifico Torelli di Fano, Renata Falcomer, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Iniziamo a presentare questo istituto che addirittura vanta due sedi. Due sedi esattamente, il liceo Torelli si sviluppa su una sede che è la sede principale a Fano in via Kennedy e che contiene diciamo il grosso dei nostri studenti, sono più di 800 studenti nella sede di Fano e la sede è staccata invece è quella di Pergola con più di 200 studenti. Bene, per dare la possibilità insomma anche a chi vive nell'entroterra. Anche all'entroterra, certo, di acquisire una formazione scientifica di livello come la nostra. Bene, allora io entrerei nello specifico della proposta formativa del suo istituto. Sì, allora diciamo che il liceo scientifico di Fano e Pergola è una realtà abbastanza peculiare per la sua dimensione, per il fatto che offre sostanzialmente due soli indirizzi. Cioè voglio dire che circa mille studenti, più di mille studenti, sono tutti focalizzati sulla formazione in campo scientifico attraverso il corso del liceo ordinario e il corso del liceo di scienze applicate. Sono due corsi che puntano a far acquisire una base, una solida base di tipo umanistico sulla quale sviluppare una mentalità logico-scientifica. Allora, il corso, vado subito nel dettaglio dell'offerta formativa. Il corso ordinario prevede un sostanzioso numero di ore di lezione in campo umanistico attraverso la letteratura, la storia e la geografia, la filosofia, storia dell'arte e la lingua straniera, sulla quale si impernia poi lo sviluppo delle materie scientifiche, la matematica, la fisica e le scienze. Il corso di scienze applicate, invece, prevede sempre una solida base scientifica, ma, a differenza del corso ordinario che, insieme a tutta la formazione umanistica, vede anche l'insegnamento del latino, nel corso di scienze applicate l'insegnamento del latino è sostituito con l'informatica e un potenziamento ulteriore delle ore di scienza. Quindi, questi due grossi filoni principali sono la struttura portante dell'intero liceo scientifico, diciamo, a carattere nazionale. Il liceo scientifico Torelli di Fano e Pergola ha sviluppato una sua identità attraverso un ampliamento dell'offerta formativa, cioè un arricchimento degli insegnamenti di questi due filoni principali che adesso vado a definire e a dettagliare. Allora, il corso ordinario ha voluto implementare l'offerta potenziando l'insegnamento della fisica per i ragazzi che si sentono particolarmente portati in questa disciplina. con un'ora in più a settimana nel primo biennio, rimanendo invariato il piano di studi generale. Altri due, diciamo così, ampliamenti dell'offerta formativa sono stati predisposti per portare i ragazzi a una migliore acquisizione nel campo delle lingue straniere. Allora, uno si chiama indirizzo bilinguismo. Il bilinguismo prevede che cosa? Un'ora in più a settimana, quindi quattro ore a settimana invece delle tre dell'insegnamento della lingua inglese nel primo biennio. E in più due ore a settimana che i ragazzi possono scegliere di, tra le due lingue, il tedesco e il francese. Sono due ore settimanali in più rispetto al piano di studi ordinario. Terza opzione, sempre del corso ordinario, è il percorso internazionale del Cambridge. Questo è un corso piuttosto impegnativo dove alcune delle discipline del curriculum ordinario vengono insegnate in lingua inglese durante le ore settimanali, curricolari. In più ci sono due ore a settimana di potenziamento della lingua inglese con madrelingua. Questo è un corso che prevede un costo, però questo lo devo dire, perché nel momento in cui noi assumiamo madrelingua ovviamente abbiamo un supplemento di spesa e dipenderà il costo dalle ore di madrelingua che somministriamo. Passiamo alla definizione dell'ampliamento dell'offerta formativa per il corso di scienze applicate. Allora, il corso di scienze applicate ha previsto un'ora di potenziamento di inglese in più settimanali dalla prima fino alla classe quinta. Questo per dare la possibilità ai nostri studenti di appropriarsi delle competenze linguistiche necessarie per accedere alle ricerche internazionali di carattere scientifico e quindi si sviluppa il linguaggio inglese in campo scientifico. Da quest'anno parte anche il corso Cambridge anche per le scienze applicate con l'insegnamento della geografia nella sede di Fano in inglese e di scienze nella sede di Pergola. Quindi è un'opzione che viene offerta proprio perché siamo in possesso della competenza di insegnanti in campo linguistico capaci di poter somministrare le loro discipline anche in lingua inglese sia nella sede di Fano che nella sede di Pergola. Bene. Vorrei chiederle perché un ragazzo o una ragazza deve sentirsi motivato a fare questa scelta? Perché scegliere il liceo scientifico e quali prospettive poi può offrire il suo istituto? Diciamo che la prima caratteristica di un ragazzo che sceglie di iscriversi a un liceo scientifico è questa. deve amare lo studio deve essere appassionato nell'applicazione sui libri di testo e anche un'applicazione di carattere astratta teorica non deve essere spaventato da un impegno domestico quotidiano di ore di studio ecco questa è la prima caratteristica la seconda senza ombra di dubbio è che deve essere attratto dalle materie scientifiche la matematica la fisica alle scienze cioè deve essere attratto diciamo da una chiave di lettura della realtà che fondata su una base umanistica importante possa dargli la possibilità di leggere la realtà a cui appartiene con una certa capacità critica e infine ma non non è ultima la caratteristica del ragazzo che si iscrive al liceo scientifico è quella di avere un progetto di vita tale da implicare che al termine dei cinque anni possa intraprendere un percorso universitario infatti diciamo che più del 95% dei nostri diplomati si iscrivono alle università dei percorsi universitari di carattere essenzialmente scientifico bene io direi di ricordare anche a lei come hanno fatto così i suoi colleghi gli appuntamenti online con gli open day sì noi quest'anno ovviamente sull'onda della pandemia abbiamo dovuto rinunciare ad ospitare le famiglie in presenza nelle nostre sedi e quindi abbiamo organizzato gli open day via streaming il primo incontro si svolgerà questo sabato sabato 12 poi ce ne sarà un altro il 19 e poi a gennaio il 9 e il 16 per Pergola invece solamente il 19 dicembre e il 16 di gennaio sono incontri in cui le famiglie parteciperanno perché hanno prenotato sul nostro sito c'è un sistema di prenotazione e incontri a cui parteciperanno docenti studenti in un confronto diretto con le domande la presentazione del liceo ovviamente e le domande da parte delle famiglie perfetto io ringrazio allora Renata Falcomer grazie a voi e proseguiamo con il prossimo ospite benvenuto a Roberto Giorgi direttore del istituto Don Orione di Fano buonasera buonasera allora ci presenti in caratteri generali ecco anche il suo istituto poi entreremo nello specifico la ringrazio dell'invito e nella presentazione diciamo del nostro istituto mi preme sottolineare il fatto che il nostro polo tecnico professionale Don Orione si colloca all'interno diciamo di un'esperienza educativa più ampia e all'interno appunto dell'istituto Monsignor Gentili noi abbiamo non solo le scuole Don Orione ma abbiamo anche l'oratorio e abbiamo anche un grandissimo centro sportivo per cui sono tantissime le attività nelle quali si collocano anche la presenza si colloca anche la presenza delle scuole Don Orione la nostra è una tradizione educativa che risale al 1888 e quindi ha una tradizione un'esperienza una presa nella città molto ampia per quanto riguarda le scuole Don Orione due sono le strutture scolastiche all'interno del polo l'istituto tecnico industriale e l'istituto professionale l'istituto tecnico industriale presenta due indirizzi l'indirizzo meccanica meccatronica ed energia e l'indirizzo informatica e telecomunicazione mentre l'istituto professionale gli istituti professionali perché sono due presentano tre indirizzi l'indirizzo automotive quindi l'indirizzo autoriparatori quindi l'indirizzo addetti alla riparazione veicoli a motore e l'indirizzo elettrico e automazione industriale rivolto appunto a operatori e tecnici elettrici oltre che l'indirizzo operatore meccanico di precisione per operatori meccanici bene entrambe le due strutture quindi sia l'istituto tecnico industriale e sia l'istituto professionale si rivolgono ad allievi che hanno una propensione allo studio ma hanno anche una fortissima abilità pratica quindi le caratteristiche dello studente che sceglie un istituto tecnico sono certamente le caratteristiche di qualcuno che è attento alla progettazione alla ricerca alla progettazione esecutiva mentre chi sceglie un istituto professionale ha un'abilità pratica ha un'attitudine una propensione allo smontaggio al rimontaggio all'esecuzione di progetti alla produzione di progetti accanto a una didattica in presenza noi da moltissimi anni abbiamo investito tanto in una didattica integrata con la multimedialità tutti i nostri allievi hanno in dotazione un tablet quindi degli strumenti high tech che possono naturalmente interagire utilizzare per interagire con il docente bene per dare un'occhiata in una maniera più approfondita ai due indirizzi quello professionale e quello tecnico abbiamo invitato due professori dell'istituto Donorione con la professoressa Ricci parliamo dell'indirizzo tecnico industriale buonasera buonasera allora questo indirizzo dell'istituto Donorione in realtà ha diciamo delle altre ramificazioni se così si può dire insomma degli altri sotto indirizzi ecco ce li puoi illustrare? volentieri allora l'istituto tecnico offre due percorsi di studio informatica e telecomunicazioni meccanica e mecatronica il biegno è ovviamente comune ad entrambi gli indirizzi e l'impostazione di studio è un'impostazione tecnico-scientifica e quindi abbiamo materie generali ovviamente italiano matematica inglese accanto a queste ci sono molti laboratori e quindi c'è chimica informatica fisica e sin dal biegno si lavora con i tablet e quindi tutta la metodologia è improntata proprio sull'utilizzo di tecnologie digitali didattiche e alla fine del percorso ogni studente poi sceglie il suo indirizzo e nel triennio metà delle ore quindi ben 16 su 32 sono dedicate alle discipline di indirizzo quindi alle discipline informatiche o alle discipline meccaniche e parte integrante del triennio ovviamente è l'esperienza di alternanza scuola-lavoro quindi l'istituto è in contatto continuo con le aziende le più importanti aziende del territorio e molti studenti poi alla fine del percorso approdano proprio all'interno di queste aziende oppure scelgono ovviamente di proseguire il percorso di studi all'università entro un po' nel dettaglio quindi dei due indirizzi nel triennio di informatica e telecomunicazione cosa si fa? si studiano proprio i linguaggi e quindi si progettano siti si sviluppano app multimediali nei laboratori si pianifica lo sviluppo di reti aziendali si realizzano anche delle infrastrutture per l'automazione di servizi e si programmano degli esemplari di robot una nuova avanguardia dell'istituto informatico è l'intelligenza artificiale per quanto riguarda invece il triennio di mecatronica le materie più importanti sono ovviamente la meccanica l'elettronica la tecnologia i progetti si sviluppano utilizzando dei software per il disegno bidimensionale e tridimensionale e nell'indirizzo di meccanica e mecatronica è fondamentale poi la parte del laboratorio i laboratori sono di estrema avanguardia e all'interno dei laboratori si realizzano proprio i componenti meccanici e quindi a termine del percorso si diventa periti meccanici e informatici e si può scegliere o di entrare nelle numerose aziende del territorio oppure si procede all'università a quale tipologia di studente lei consiglierebbe questo indirizzo quello tecnico industriale lo consiglio a chi ha voglia un po' di mettersi in gioco l'impianto come dicevo prima è tecnico scientifico quindi c'è io insegno italiano e storia quindi c'è molta attenzione ovviamente anche a tutto quello che è l'ambito umanistico però diciamo che gli studenti appassionati di tecnica di meccanica e di informatica sono coloro ai quali diciamo che la scuola si rivolge e quindi è ovvio che anche l'impostazione delle materie non specifiche è un'impostazione che comunque si basa molto proprio sulla logica e sulle metodologie innovative quindi lo consiglierei a studenti proiettati proprio verso queste queste materie e questo interesse studenti e studentesse questa è una specifica che mi piace fare perché tendenzialmente si pensa che l'istituto sia riservato insomma ad un pubblico prettamente maschile ma non è così non è così abbiamo anche presenze femminili che ovviamente sono in minoranza però all'interno della classe apportano sicuramente un valore aggiunto soprattutto nelle discussioni grazie per essere stata con noi grazie a voi per quanto concerne l'indirizzo professionale invece abbiamo invitato il professor Berardi buonasera buonasera allora riparto da dove mi sono soffermata con la sua collega perché anche per quanto concerne l'istituto professionale c'è campo aperto insomma anche per le ragazze specifichiamo innanzitutto questo perché c'è un numero di presenze abbiamo un numero di presenze femminile ridotto ma lo abbiamo anche nel settore professionale esattamente sia nel corso elettrico che nel corso meccanico ecco parliamo appunto allora di questi corsi ed entriamo nel dettaglio allora l'indirizzo operatore tecnico elettrico informatico è operatore tecnico addetto alla riparazione dei veicoli a motore per quanto riguarda l'operatore tecnico elettrico informatico i ragazzi si cimentano in tutte quelle esercitazioni che li mettono in grado di operare su impianti civili e industriali hanno una grossa parte del corso dedicata alle energie rinnovabili e alla domotica tutte le tecniche di ultima generazione sia sempre per quanto riguarda la parte del software che la parte poi dell'installazione loro installano collaudano certificano impianti di questo tipo poi c'è una grande parte dedicata all'automazione industriale dove i ragazzi apprendono ad esempio l'uso del PLC grande parte del corso è occupata dallo stage dove i ragazzi toccano con mano un'esperienza lavorativa molte ore della seconda e della terza sono dedicate a questa esperienza e hanno una possibilità concreta di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro al termine del percorso per quanto riguarda invece il corso come operatore tecnico riparatore dei veicoli a motore i ragazzi apprendono tutto ciò che è legato alla manutenzione quindi messa a punto riparazione dei veicoli a due e quattro ruote lo fanno grazie ai nostri laboratori che sono all'avanguardia sia per quanto riguarda il comparto meccanico sia per quanto riguarda il comparto elettrico elettronico abbiamo due laboratori all'avanguardia tant'è che ognuno dei nostri allievi ha a disposizione a partire dal secondo anno un motore a quattro tempi completo con la relativa trasmissione e dicevo grande parte è anche dedicata al settore elettrico c'è tutto quello che attiene alla sensoristica sensori attuatori dell'auto contemporanea che viviamo tutti i giorni e grande attenzione alle tecniche più tecnologie più moderne quindi dispositivi di inquinamento iniezione sicurezza attiva e passiva e via dicendo anche qui i ragazzi hanno una grossa opportunità con gli stage grazie alle quali si possono inserire con successo nel mondo del lavoro nelle ditte del territorio ma abbiamo avuto anche studenti che hanno fatto un salto di qualità per cui sono arrivati a lavorare alla Ferrari o a scuderie che si cimentano nei campionati sportivi a livello europeo quindi c'è questa alternanza scuola-lavoro sì che è un punto forte del nostro istituto perché veramente questa sinergia con le ditte piccole, medie e grandi del nostro territorio fa veramente la differenza e questa alternanza quando parte? dopo il biegno? dopo il triennio? allora l'alternanza parte a partire dal secondo anno perfetto grande parte del secondo anno è dedicata proprio agli stage perfetto e in ogni caso si consegue poi un diploma che dura dopo insomma la durata dei cinque anni oppure già dopo il terzo anno i ragazzi possono diplomare? ci sono diverse opzioni legate poi alle aspettative le capacità le aspirazioni del ragazzo diciamo che al termine dei tre anni si può ottenere una qualifica di formazione professionale e inserirsi subito nel mondo del lavoro si può accedere a un quarto anno per cui la qualifica diventa un diploma di tecnico quindi con delle capacità superiori poi volendo ci può essere il salto di qualità per cui si può passare all'istituto tecnico industriale e conseguire il diploma di quinta e poi eventualmente anche andare all'università siamo in fase conclusiva quindi prima di ricordare gli open day online so che voleva aggiungere altro si la ringrazio e ringrazio anche Fano TV di questo servizio che ci permette di presentare il polo con tutte le sue articolazioni invito naturalmente gli interessati a partecipare ai numerosi open day che abbiamo nel nostro istituto ma anche ricordare quelli che sono gli elementi di successo alla base appunto della nostra offerta formativa il primo elemento di grande successo che alcuni docenti hanno poc'anzi ricordato sono l'innovazione per quanto riguarda la parte strumentale e laboratoriale noi abbiamo effettivamente negli ultimi anni negli ultimi cinque anni effettuato un grandissimo rinnovamento dei laboratori questo rinnovamento ci ha permesso effettivamente di interagire con tante aziende di primaria importanza sia meccaniche sia naturalmente nell'ambito informatico elettronico i risultati che noi abbiamo ottenuto e abbiamo registrato statisticamente in questi ultimi anni sono un performance didattiche crescenti e questo lo si evince sia dalle indagini invalsi sia dalle indagini che la Fondazione Agnelli tutti gli anni attraverso appunto l'indagine eduscopio ci restituisce quindi una crescente competenza e un eccezionale un eccezionale indicatore di occupabilità dei nostri allievi l'indagine condotta proprio uscita qualche settimana fa dalla Fondazione Agnelli non solo ci garantisce e certifica quelli che sono i risultati in termini di performance quindi quanti degli allievi proseguono gli studi e naturalmente la loro collocazione in termini di successo ma soprattutto per quanto riguarda l'occupabilità il nostro istituto sia professionale sia l'istituto tecnico industriale hanno percentuali di occupabilità superiori agli altri istituti tecnici e professionali del territorio immagini l'istituto tecnico ha una performance del 71% degli allievi in uscita trovano immediatamente occupazione nell'ambito degli indirizzi di studio che hanno naturalmente perseguito e all'istituto professionale addirittura a percentuale è superiore al 71% arriva all'84% quindi con l'attinenza naturalmente al percorso di studio questo è un indicatore significativo di qualità per quanto riguarda invece le attività orientative mi attrezzo anche per dare delle indicazioni i prossimi open day sono il 12 di dicembre il 19 di dicembre e poi nel mese di gennaio tutti i sabati di gennaio quindi il 9 il 16 il 23 e il 30 è possibile naturalmente con prenotazione visitare la scuola quindi svolgere gli open day in presenza ma anche se uno volesse naturalmente in modalità anche online esiste anche un servizio è uno sportello diciamo aperto al pubblico tutti i sabati mattina quindi i nostri operatori soprattutto sono insegnanti che si occupano naturalmente tutti i giorni sono impegnati negli indirizzi specialistici danno informazioni di questo tipo e questo servizio è aperto naturalmente collegandosi al sito della nostra scuola do anche il riferimento del sito se è possibile che è appunto www.donorionefano.edu.it grazie allora Roberto Giorgi grazie Riccardo Sora in regia e tutti voi per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi grazie a tutti